Oggi è una giornata particolarmente triste, 5 marzo 2024, da quando questa mattina ho sentito su Vatican News la notizia e poi rigirata dappertutto che la Francia esulta perché il diritto di abortire adesso è costituzionale. Ma che bisogno c'era? Non ci sono mai stati così tanti aborti in Francia come l'anno scorso. Perché metterlo nella Costituzione? Di che cosa avevate paura? È tristissimo, è triste perché forse avevano paura della scienza, del fatto che si possa liberamente discutere di alcuni argomenti e ragionarci un pochettino su anche alla luce dei fatti, perché in fondo la scienza ci dice che a livello scientifico tra un giorno prima del terzo mese e un giorno dopo il terzo mese di gravidanza, ma che cambia? Non lo sappiamo, la vita non la possediamo. Una sola cosa sappiamo che quando parte un embrione, lì a un certo punto c'è uno sviluppo senza soluzione di continuità. Ma perché io non posso fare il federale a un mio caro anziano che è morto? Devo aspettare 24 ore. Perché? Perché ciò che ci sembra così evidente è morto, non è così evidente, ci dice la scienza. Ci abbiamo paura della scienza, come fa paura la realtà, a molti da fastidio che dover far sentire, dover sentire il battito del bambino che hai nel grebo e che stai per eliminare, è atroce. Certo io, obbligarlo, che ti devo obbligare a vedere la realtà, sta lì la realtà, sta lì la realtà. Poi, perché non ci si interroga perché le donne abortiscono? Certo, forse qualcuno lo farà con superficialità, ma perché abortiscono? Qualcuno dice che comanda in Italia finché comanda il Vaticano, allora penseremo così, ma il Vaticano comanda la morale in Italia. Sapete chi comanda in Italia? Comandano le multinazionali, i negozi che ti dicono che se tu c'hai una gravidanza ti licenziano. Ah, questo comanda la morale. È un comando assurdo, terribile e non c'è di fronte a quell'obiezione di coscienza. Un altro problema è che in Italia sono troppi i medici obiettori di coscienza, sono al 70% e allora l'aborto viene garantito, lo fanno tutti, quelli che vogliono lo fanno. Un po' più di fatica. Forse la legge prevederebbe anche l'ascolto e perché stai abortendo. Ma nessuno si chiede perché così tanti obiettori di coscienza. Perché forse c'è qualcosa che non quadra, che non va. Però di questo non si può parlare. Siamo in paese in cui saremo, accogliamo tutti la diversità, però io non posso dire che non sono d'accordo. Rispetto alla scienza non dico nulla di ascientifico, dico solo che se io non ho diritto di mangiare quello che voglio, si affianca a me c'è uno che muore di fame. L'unica cosa imprescindibile e assoluta è la vita e la sua sacralità, anche con i suoi momenti atroci e tristi che però possono essere vissuti solo insieme. Non lo so, questa per me è una sconfitta dell'umanità, è un ragionamento che prevale sulla realtà. La realtà mi hanno insegnato a me a scuola che esistevano gli uomini primitivi, mi hanno detto che si chiamano primitivi, come certi periodi oscuri della storia. Nel Medioevo, è una cosa da Medioevo, nel Medioevo gli uomini primitivi non facevano una certa atrocità che facciamo anche noi. Vi siete chiesti come mai non si parla più della colonazione? Vi ricordate la Decora Dolly? Andatevi a informarvi un po' lo scienziato che ha portato avanti come si è fermato. Non se ne parla più, ci siamo resi conto di troppe falle, eppure sembrava una cosa assoluta. Io conosco tante donne, non c'è una donna che vada con superficialità ad abortire, sono dolori terribili, andrebbero accompagnate. E certo se una donna non ha il dono di incontrare la misericordia di Gesù. Non lo so, a me sembra che vivono spente, non vivono più la pienezza. Solo la misericordia di Gesù ti aiuta a risuperare e a capire che una volta che siamo nati non moriremo più e anche i figli abortiti ti accompagneranno come degli angeli. Devi solo imparare a chiedere scusa. Ci vuole tanto rispetto, forse per questo a volte uno non insiste e non obbliga. Sono tante storie, ma ci dovremmo riflettere un po' di più. Oggi è una perdita dell'umanità. Certo la Francia, 1789, uguaglianza, libertà, fraternità. Andate a studiare, io l'ho fatto un po', andate a studiare le colonie francesi in Africa. Uguaglianza, libertà, fraternità. Non prendiamoci in giro. Certo a volte pure noi cattolici abbiamo fatto un po' di trionfalismo. Il trionfalismo fa sempre male. Però oggi l'umanità ha avuto un colpo. Io ho sentito un colpo al cuore. Oggi preghiamo perché le donne siano accompagnate. Perché anche nei momenti di drammi, anche nei momenti in cui vogliono dimenticare un passato terribile o un momento terribile, abbiamo qualcuno che li aiuti a riconciliarsi col suo passato. E se hanno sbagliato abbiamo qualcuno che con tanta misericordia e rispetto sia vicino e che tutti, tutti sbagliamo, tutti commettiamo atrocità, tutti. Però ufficializzarle così e sbatterle in faccia è proprio terribile. La Madonnina ci accompagna. La Madonnina che ha tanto amato la Francia va a andarci. Forse per questo sarà andato lì. Perché la Madonna si mette nelle situazioni più terribili e più più terribili. Scusate, sono stato un po' lungo, ma è una condivisione. Chi lavora a sentire la sentirà. Oggi è un giorno triste. E il Signore saprà trasformare la tristezza in occasione di crescita. Non si tratta di vincere. Si tratta però di tutelare l'umanità e i bambini. Su questo dovremmo muoverci un po' di più. Tutelare le donne che non hanno altra via d'uscita. È terribile che non abbiano altra via d'uscita. Io me ne sento un po' responsabile. Certo c'è da soffrire. O forse c'è da portare avanti un figlio in maniera condivisa. Si è sempre fatto nella storia questo incaponimento. È molto pericoloso. ma tanto come gli italiani spariranno perché l'alternata è l'età. Così i francesi spariranno. Chissà, forse ci dovranno aiutare gli africani. Forse su questo i musulmani ci daranno una mano. Non lo so. La vita è vita. È sacra. E se preghi lo riscopri. Che il Signore ci aiuti. Madre Teresa diceva che l'aborto è la più grande minaccia per la pace ed effettivamente siamo in un mondo così in cui la rivendicazione dei diritti ci porta alla guerra e mai come oggi le guerre sono state così diffuse, così collegate. Ha voglia a firmare i trattati per eliminare atrocità in guerra. Ma i primi firmatari sono i primi che li violano questi trattati in maniera atroce e spudorata oggi più che mai davanti a tutti. Viviamo di fronte a un mondo falso. Però non lasciamoci scoraggiare. Ma soprattutto non ci servono diritti. Ci serve da custodire la sacralità della vita. Soprattutto nella sua fragilità, nei suoi momenti bui. Se custodiremo la fragilità della vita e ne riconosceremo la sacralità, il nostro cuore avrà pace. Solo allora ci godremo la vita fino in fondo, nella pace. E un cuore pacificato ci renderà veramente operatori di pace in questo mondo. La vita ci salverà e chi la rispetterà se la godrà fino in fondo.